Si torna a viaggiare un po' più liberi. I paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, sono pronti a revocare le restrizioni in niente più quarantena o test anti-covid per i vaccinati con i vaccini approvati dall'OMS o per i guariti dal covid. Il tampone resta necessario per i non vaccinati. Con le nuove regole i governi sperano di rilanciare il settore del turismo, anche in vista delle vacanze di Pasqua.